Questo momento in cui tutti hanno deposto le armi, non tutti, non tutti, c'è chi è vivo ed è attivo, beh in questo momento lui ha fatto una roba che è strepitosa, sto parlando di Renato Zero. Mi sono arrivati finalmente i vinili di Zero 70 e voglio fare l'unboxing insieme a voi. Questi sono sei vinili, 3, 2, 1, 0. Allora, voglio farli vedere per bene, tanto per cominciare. Perché coraggio? Perché in un momento in cui tutto il mondo è teso a dire o a pubblicare dei singoli insulsi di marmellata musicale, tutto con le stesse sonorità, lui pubblica sei album, un totale di non so quante canzoni. Lo fa a distanza di un mese l'una dall'altra, lo pubblica in vinile, con una grafica spettacolare, spettacolare. C'è anche il cd, da qualche parte ce l'ho di là, perché l'ho fatto vedere la volta scorsa, adesso me lo vanno a prendere. Ci sono anche i tre cd, chiaramente, però è il vinile che acquista un qualcosa di spettacolare. Allora, cominciamo ad aprire. Perché è bello che una persona, un artista, che è sempre stato diverso, immarginato e che ha sempre fatto cose molto particolari, faccia qualcosa. Ecco, questo è l'aspetto cd, a te la differenza anche perché io amo il vinile. Comunque ci sono i cd con il cofanetto, con dentro tutti i cd, 3, 2, 1, ok. Dicevo che in un momento come questo, in cui tutti lasciano perdere oppure fanno qualcosa di... Renato Zero è il più giovane di tutti, il più rivoluzionario. Ed è una... Tra l'altro, tra l'altro, Buonasera, Marta Martini, buonasera Redrone, mitico, bellissimo, canzoni, vorrei ascoltare l'idea di te, eccetera. L'amore mio sublime, solo un grande come lupo fare un capolavoro del genere. 39 canzoni, grazie di dirmelo. Ci sono inediti, Red, sono tutti inediti, forse non hai capito. Non ha fatto il best of. Questo folle, perché è zero folle, ha fatto inediti. Sono 39 inediti. Peraltro, con un concetto diverso, cioè, mentre il 3, che è questo, questo è il 3, che è il primo che è uscito, perché giustamente, 3, 2, 1, 0, mentre il 3 c'è prodotto da film Palmer, eccetera. Gli altri sono tutti diversi, c'è, ognuno ha delle sonorità diverse. È un progetto, 39 brani inediti, Renato non si smentisce mai. Uno in quegli album, un gran par di canzoni scritta in Uma Palmer, dove c'è l'angelo ferito, esatto. L'angelo ferito, scrive il miglior romanzo, che è, sì, è vero, l'ho scritto in Uma Palmer, il testo, perché la musica è di Phil Palmer. Bella, Renato è Renato, quest'album è suonato da Dio, e quindi bellissimo regalo per tutti i suoi fan. Grande Red, adoro Renato. Sul vinile è un mondo completamente diverso. Quando ero solo in stanza bambino, Renato allora per me è sconosciuto. Allora, da quando c'è Red su Telegram, esatto, io ho il canale su Telegram, ho disdettato Spotify. Tutta poesia raccontata da lui. Renato non ci ha lasciato i soli. La sua presenza ha dato entusiasmo e amore. Cioè, praticamente, Renato è fantastico, amore sublime. Ok, però, ho capito, però adesso devo smettere di leggere i commenti, perché se leggo solo i commenti, poi io non faccio l'unboxing. Allora, partiamo dal cofanetto. Perché io non so cosa c'è dentro. Cioè, non so com'è. A parte il fatto che posso dire, questo è un capolavoro che andrebbe tenuto tutto sigillato, messo là come opera d'arte. Però, se lo sigillo, non posso poi ascoltare i dischi. Quindi, allora, apriamo. Apriamo. Tanto per cominciare, bisogna tenere, quando aprite, dovete tenere gli adesivi dietro, perché gli adesivi li dovete tenere come feticismo. Ok, 0,70, dietro c'è scritto, 0,70. Masterbox edizione limitata, 37 di 2.500. Tenere anche questo, 0,70, vedete? Vedete questo cordo qui, bellissimo. 6 LP di 180 grammi, libro di 36 pagine. Allora, questo è proprio... Io non ho mai fatto una cosa del genere. Non ho mai fatto una diretta per fare un unboxing di un disco. Però, 0,70 lo merita. Allora. Oh, ragazzi. Vediamo, vediamo. Tanto lo apriamo e troviamo 0,70. Vediamo cos'è questo. Probabilmente questo è il libro. E vediamo il libro che ha incluso in questo 0,70. Guardate che bella torta. Cioè, ogni cosa, vedete i riflessi? Ogni cosa è curata. Io poi chiamo la grafica. È curata in una maniera incredibile. I colori suddividono i adempio. Questo è il 3. Il 3 è colore rosa. 70 ragioni per amarti. Ci sono cascati in pieno per scappare dal buio e dalla diffedenza. Ferito e guarito ogni volta. La forza della ragione, dei sentimenti, con precoce e come sapevolezza di dovermi aggiudicare ogni singolo giorno, mettendo in conto le insidie e i tranelli di una certa Italia conservatrice, bigotta, marmorizzata. E mettevo già dei suoni, eccetera. E poi, come vedete, lui c'è scrive. Tutti i testi. Tutti i testi. Phil Palmer, Mattone, Renato Zero, Phil Palmer. Alan Clark, scusate, Alan Clark è quello che ha scelto le musiche anche per I Die Straits and a Rock and Roll Hall of Fame. Andiamo avanti. Ok, il linguaggio della Terra, che bello. Poi c'è, questo è il 3. Poi c'è il 2. E qui un'altra cosa. C'è un po' dottore, un po' alchimista, quindi si entra in un altro mondo che lui descrive con i colori e con quello che scrive. Colome 2. L'amore sublime, il grande incantesimo, la logica del tempo, non è amore. Eh, Renato, Renato. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. In manette l'astinenza, l'idea di te, bella scommessa, come non amarti, eccetera. Poi abbiamo il 0 sole, questo è il 2. Poi c'è l'1, che è l'ultimo, ma in teoria è il primo che doveva uscire questo. Anche qui si chiude anche questa esperienza segnata da dubbi e paure, dove anche l'equilibrio più stabile è stato messo a dura prova. Non siamo ancora al sicuro. E c'è Renato Zero e Renato Fiacchini. C'è tutto. In pratica, firmarsi Renato Zero e Renato Fiacchini, io non voglio fare il critico, ma per me significa che lui, cioè che di quello che sa, è lui che lo dice magari, significa che lui ha messo a disposizione sia il personaggio pubblico che quello privato. E questo, Renato, è fantastico in questo. Il volume 1, Orfani del Cielo, Non Mi Stai Crami, Amara Melodia, Nemico Caro, Ti Ricorderai di Me, L'Ultimo Gigolo, Finalmente Te Ne Vai, Io e Te. Poi arriviamo alla fine del libro, ragazzi. Questo è il libro che termina. Questo è 070, il libro che c'è all'interno del cofretto. È caduto un disco, sono caduti tutti i dischi. Adesso li prendo. Ecco, questo è il libro. Dopodiché, Allora, aspetta che mettiamo dentro. Qui c'è il primo vinile, quindi non devo aprirli quelli lì. No, c'è già dentro. C'è già dentro il vinile. Ecco, disco 1. Questo è il disco 1. Questo è il vinile. Io lo ascolterei anche, ma non si può perché altrimenti YouTube o Periscope o Facebook possono interrompere la diretta. Il linguaggio della terra, bellissimo. E ci sono tutti i vinili. Allora, perché io... Allora, se lo metto dentro, rimetto dentro. Guardate, c'è la cosa pazzesca. È che io, quando dal vinile tolgo il disco, rimane la grafica. Questo è qualcosa di... Però voglio aprire anche uno di questi dischi, perché... Ecco l'altro disco. Sono due album. Due album. Due album ogni numero. Quindi sei album. Dietro... Guarda che roba che ha fatto. Cioè, questa è un'opera d'arte, ragazzi. Questa è un'opera d'arte. Guarda, ecco i due vinili. Ecco i due vinili. Ecco perché poi dietro c'era ancora, perché c'è un altro vinile. E dietro c'è 0,70, quando estrai tutti i due vinili. E questo è l'uno. Io sono certo di quello che sto dicendo. Credo che nel mondo... Aspetta, dov'è quello di Johnny Mitchell? Da qualche parte dove era il cofanetto di Johnny Mitchell. Forse è di là. E quello grosso... Credo che solo Johnny Mitchell nel mondo è un cofanetto grosso così. Mi è venuto in mente adesso Johnny Mitchell, una roba grande così. Solo Johnny Mitchell abbia fatto un'opera del genere, ma non così bella. Lei ha fatto qualcosa di particolare, ma non così. Qui siamo a dei livelli altissimi. cioè nessuno, nessuno, ripeto, nessuno, nella storia della musica nel mondo, ha fatto un'opera del genere. Johnny Mitchell ha fatto un cofanetto dove ha messo dentro i suoi brani, ma non erano inediti, ha fatto una compilation dove poi ha fatto, siccome lei dipinge, ha messo, c'erano solo i testi, graficamente, e dei disegni ha fatto lei. Cofanetto importante, grosso, ma non bello come questo. da qualche parte ce l'ho Johnny Mitchell, forse là dentro, a quegli scatoloni là, o di là negli scatoloni nello studio del Barone Rosso, del prelato circolante del Barone Rosso. È un cofretto molto grosso, se lo vediamo, così li mettiamo di fronte, perché a memoria mia soltanto Johnny Mitchell ha fatto una cosa del genere. Solo Johnny Mitchell, perché poi, attenzione, è bello anche, anche come cd, se poi non hai ancora il vinile, anche perché il vinile lo limitate di, se il cd lo prendi, dentro lo apri, ok, e ci sono, vediamo com'è il cd, lo apri, ecco fatto, dentro c'è il cd, ecco, ok, e questo è la parte grafica, quindi diciamo, questa è la parte grafica, ok, che è in piccolo quello che c'è nell'album, poi, con i testi, con tutto, quindi quello che c'è nell'album c'è anche in piccolo qui, ok, sono in grado di farvi vedere allora, questo è, questo ecco, questo è, diciamo che quello che ha fatto Renato Zero è, secondo il mio parere, superiore a quello che ha fatto Johnny Mitchell, queste sono le due, diciamo, le due opere d'arte nel mondo del vinile più importanti, secondo me, che ci sono state, perché Johnny Mitchell, cosa ha fatto, le esperti che mi ha messo vedere Renato Zero, sono pesantissimi entrambi, Johnny Mitchell ha fatto questo, dove, ripeto, è un po' più povero, come grafica, perché c'è molto scritto, però, e ci sono dei suoi, poi ha fatto dei, dei dischi, ok, dei dischi, molto, molto più poveri, diciamo, come grafica, però, la caratteristica degli album, di Johnny Mitchell, è questa, che, allora, qui, una parte, ci sono tre lati incisi, sono sei anche questi, tre, sei sono, si fa vedere, uno, due, tre, quattro, sono otto, no, sei, a, sei, sei, c, sono, 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 no, ma sono gli stessi, perché sono tre incisi, tre, tre, però, in uno dietro, lei non ha messo le canzoni, ma ha fatto un, una incisione, ecco, adesso cerco, cerco di vedere, la luce, come fare, farsi, di far vedere, ecco, vedete, ecco, è come un disegno, mettendoli insieme, c'è un disegno, con, con delle scritte, cioè, mentre di qua, ci sono i solchi, dei brani, di qua no, di qua è fatto così, e sono uno diverso dall'altro, chiaramente, ecco, direi che, l'opera di Renato Zero, la trovo più bella, di quella di Johnny Mitchell, e stiamo parlando, perché, hanno fatto tanti cofanetti, io ne ho tanti, di cofanetti, ho anche, ho letto, Cladyland, tutti questi cofanetti, però, tanto per cominciare, erano tutti cofanetti, che erano, che erano fatti, di brani storici, quindi dico, faccio, una, una, un ricicla, ricicla, riciclo, è brutto dire la parola riciclo, comunque, prendo dei brani, del mio repertorio, li metto insieme, e gli creo, una confezione, per cui, gli appassionati, possano acquistare, visto che ce li hanno già tutti, gli creo solo una confezione, che, te li metto in un modo, che, tu, anche se hai già i dischi originali, te la vai a comprare, per la confezione che ti do, no, Renato Zero ha fatto, una roba, unica, ha fatto un qualcosa, in cui, tutti inediti, tutti, fantastici, ok, 39 canzoni, e, fatta oggi, questa operazione, ha un valore incredibile, perché viviamo in un periodo, in cui, nessuno dà importanza alla musica, ne ha parlato anche Enrico Ruggeri, ne ha parlato, ne stanno parlando, in Inghilterra, chi si sta muovendo, chi sono gli unici che fanno qualcosa, sono quelli che hanno, una storia alle spalle, Van Morrison e Eric Clapton, hanno fatto un brano insieme, Renato Zero ha dato, una risposta, è stato anche, molto, molto lucido, e a volte anche critico, nelle sue dichiarazioni, per lanciare, questi tre album, però lui ha dato, una risposta con i fatti, con questo capolavoro, di un disco, non un disco, di un'opera d'arte, e adesso leggo, un po' di vostri messaggi, tenendo, tenendo qui, il disco di Renato, eccolo qui, lo tengo così, allora, andiamo avanti, fantastico Renato, amore sublimo, bellissimo pezzo, Renato è il cantatore, unico e inevitabile, un abbraccio forte, Ciao Nì, il poeta, sempre nato, e si è tapatezzato musicalmente, dal grande Renato, Umberto, ha superato, ben nato, a zero piace, tre per volta, non dimentichiamo, l'unico artista al mondo, primo in It Parade, in sei decenni diversi, porta, Renato al Borne Rosso, magari, per adesso si riposa, anche perché, è sorcino da sempre, poi tornò a Sanremo, e capì, cosa me l'ho perso negli anni 70, eh lo so, Renato a zero, tornato a Sanremo, un discorso unico, poetico, delle solennità rare, vogliamo parlare delle qualità eccelse, grande Renato, dal 79, con una sonora, fantastico Renato, ma in quanti siete, ma io ho fatto una diretta all'improvviso, alle 16.30, Edoardo Mostrocola, mi fai questo supero incredibile, prendo i veniti di Renato a zero, anch'io li ho tutti, in quel cofanetto, se ci dica è venile, ah vedi, non sono amante delle sue canzoni, però cazzo, quest'artista ha fatto un capolavoro, cioè, chapeau, Renato, chapeau, cioè, io non so come ti sia venuto in mente, attento all'etichetta adesiva che hai davanti, sì sì, ma tranquillo, tranquilla, allora, preferisco i cd più pratiche, ognuno ha le sue fise, c'è problema, ci ho fatto vedere anche i cd, quindi non c'è mica problema, che spettacolo, martedì, sappiamo già cosa metterai nella parte dei vinili, tu ci conosci bene, la storia nostra, zero follia, allora, io non ho capito che fa lavoro, mi sono capito per iscriverlo, ma non l'ho capito, Filippo, che lavoro faccio io? Il mio lavoro è farti star bene, questo è il mio lavoro, come il lavoro, anche di uno come Renato, che fa star bene le persone, con delle cose belle, siamo in un periodo grigio, in un periodo in cui la gente guarda in basso, e in questo periodo c'è bisogno di colori, ma non i colori giallo, arancione o rosso, colori rosa, verde e azzurro, non sono colori che hanno usato, per la negatività, che belli che sono uscite anche i vinili, che meraviglia, addormentavo il mio figlio in braccio cantando di pezzo di Renato, Red faccia ascoltare qualcosa che ti ha colpito in questo lavoro, allora intanto me lo devo ascoltare per bene, perché non ci vuole, ci vuole un po' a sentire tutto, il linguaggio della terra è stupenda, sì, di fatti, sono con i, sarebbe, sarebbe da acquistare solo per, no, questo sarebbe da acquistare solo per l'opera d'arte, perché è unica, cioè non è mai stata fatta, ci sono dei cofanetti belli, perché anche quello di Rita Pavone è bello, Masters, ti faccio vedere, vedi anche Rita Pavone ha fatto un bel cofanetto, però questo supera tutto, questo è Masters, questo è un cofanetto che ha fatto Rita Pavone, ok, dove entri dentro, ed ecco, c'è un bellissimo libro, ok, un bellissimo libro, dove racconta la sua storia, e poi ci sono i dischi, oh, questa è una dedica privata, e poi ci sono i dischi, ok, cioè c'è un disco e, e, e un libretto, un libretto, non so cosa c'è, il CD Pro, ok, molto bello, prestigioso, pregiato, però, però ripeto, qui sono sei, e poi è tutta una roba pazzesca, perché io non mi vedo più? ho toccato qualcosa, allora uno, due, no, dove è programma? è in preview adesso, esatto, ok, avevo messo preview, vabbè, niente, allora, avevo fatto un casino, perché è andato sul mixer video, ho appoggiato una roba, è andato sul mixer video, Renato Cantante è meraviglioso, eccetera, eccetera, ragazzi, Renato ha voluto superare se stesso, che belli, allora, qui mi stanno mandando i messaggi, anche privati, su questa mia diretta, che devo togliere e smettere, che sentite qualcuno che dice, perché ho fatto bellissimo Luisa Pixi, che belli, Renato, ho letto, allora, grazie Red, grande progetto Renato, bellissimo l'album di Renato Zero, anche la versione CD, che non è emorata, non si trova più nei negozi, Phil Palmer è sonato con Gianni Mitchell, ah, guarda, vedi le coincidenze poi, ragazzi, è uno spettacolo, ti vede eccitato perché sto unboxing, allora, io sono eccitato dalla bellezza, da due cose, dalla bellezza e dal coraggio degli artisti, oggi manca sia la bellezza, che il coraggio degli artisti, quindi coraggio degli artisti, unito a bellezza, è qualcosa di spettacolare, è qualcosa di incredibile, è qualcosa che è chiaro che sono, sono eccitato, e quindi, credo fermamente sia stato tutt'oggi, il più grande cantante sociale, politico italiano, mentre tutti osannavano Cucini, Dandè, Degorio, ignorando Renato Zero, eh lo so, eh lo so, eh lo so, eh lo so, però Renato è rimasto, Renato è rimasto diverso dagli altri, sempre, non ha mai, non ha mai seguito da qualsiasi parte, quindi, niente, sicuramente è riuscito ad arrivare al primo posto, del sei decenni, unico in Italia, ancora, hai mai visto quello degli smutting pumpkins, Smellon, sì, è un capolore di quello, ma questo è il migliore di tutti, ti assicuro, tutte le tracce sono importanti, non una canzone esatta, anche io so bene il più bello è Ghira, è Ghira, anche se so che il più bello è Ghira, non so se ho scritto bene, meraviglioso Renato, sto saltandone, arrivo alla fine, salterò un 400 messaggi, arrivo adesso, ok, ah, ragazzi, Renato ha sempre avuto ragione, tutti venduti e servi, sogni artisti oggi, pochissimi le voci libere purtroppo, bellissimo il tuo canale Telegram, Serredroni, esatto, andate nel canale Telegram, Serredroni, dove peraltro avvi, l'unico luogo dove ho avvisato in anteprima, che avrei fatto questa diretta, oltre a mettere tanti brani, poi metterò anche qualcosa di Renato Zero, sicuramente, nel mio canale Telegram, la tua competenza è veramente grande, riesce ancora a consigliare la vera musica, e gli artisti che registrono il tempo, un unboxing meraviglioso, quindi ragazzi, questo è tutto, quello che io vi voglio dire, è che Renato Zero, grande anticipatore, Renato Zero sarebbe penso felice, di sentire questi tuoi apprezzamenti, sarebbe bello averli come tuo ospite, grande re, da sensazione, trovo rilassato, meno aggressivo, tempo fa ti ascoltavo più aggressivo, agli stupidi, ora gli spiega elegantemente, perché sono fessi, questo momento può far diventare caroni, anche più sereno, non lo capire, vabbè, allora, grandissimi video di te, allora, è bravo Renato, sei splendido, unico, l'ho conosciuto quando lavoravo ad amici, meraviglioso, ho disegnato per lui le scene del brano, infiniti neri, questo è Valerio Manisi, ecco, quindi questo è Renato, Renato sempre a tre passi avanti, nonostante le radio snobili, questo è, oggi ci tenevo, a mostrare, questo capolavoro, colorato, di bianco, di rosa, di verde, e di blu, un qualcosa che rimarrà, diciamo, nella storia della musica italiana, e non solo, perché ripeto, io un cofanetto così, io prendo tantissimi cofanetti, ne ho tanti, ti faccio vedere, ti faccio vedere, uno degli ultimi, questo, questo è un altro, cofanetto, questo è Jimmy Hendrix, è Jimmy Hendrix, con, con tanto che ciare, si può fare una copertina così schifosa, per Jimmy Hendrix, che era soprattutto immagine, no, però l'hanno fatta, hanno fatto una copertina, che fa cagare, però, andiamo avanti, ragazzi, guardate, guardate come foto buie, se c'è proprio, qui c'è il buio, sono riuscita a rendere buia, l'immagine di, di Jimmy Hendrix, guardate, guardate le copertine del disc, ci c'è un libro, e poi ci sono i dischi, c'è tutto, tutto il film morta al vivo, ok, musica strepitosa, Jimmy Hendrix, però, copertine, grafica, anche i contenuti, quindi, diciamo che io, amo l'arte, amo la musica, ma amo anche l'arte nella musica, per questo amo i vinili, le copertine, eccetera, però, scusate, adesso non è per dire, trovate un po' di differenza, cioè, trovate un po' di differenza nell'arte, e attenzione, sto parlando di un idolo, che è Jimmy Hendrix, ma questa roba qui, mi sembra adesso un piazzista, che vuole vendere, cioè, signori, signori, cosa volete, questa roba qui non è valida, questa è quella valida, eccetera, non sto vendendo niente, perché, non so se credo sia quasi esaurito, forse voi me lo dite, se esaurito, adoro, grande red, eh, cosa vuole, le radio snobano talmente, ecco perché ascolto i suoi cd in macchina, che adoro, grande red, eccetera, io non so, non so, ripeto, non so se sono già esauriti, mi dicevano che sono esauriti anche i cd, mi sembra strano, anche i cd esauriti, però, insomma, questo non era, non era per pubblicizzare questo album, ma per ringraziare Renato Zero, per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che sta facendo, we have a dream, abbiamo un sogno, c'è chi mantiene dentro di sé quel sogno che ha, e c'è chi invece gliel'ha data su, e va alla ricerca di un consenso, e va alla ricerca di leccare il culo ai potenti, di fare un ancora un po' più di soldi, e la sua parte artistica è già andata, esaurito il cofrenetto di vinili da subito, mi dicono, perché Renato Zero non ha una casa psicografia che paga, non ha una casa psicografia che paga, perché ha rifiutato di avere una casa psicografia che paga, ma controlla, quindi, si trova solo su ebay a prezzi elevati, di Renato Zero ce n'è uno solo, anche l'occhio vuole la sua parte, esatto, ma come ti devo ringraziare, lo sai che sono un sorcino incallito, di porti saluti di Ivan Cattaneo, con cui sono stato ieri, sono morto, ah, vabbè, se ho scritto Barone Rosso in diretta, non faccio nomi di artisti negativi, a sabato sera, ciao ragazzi, era una breve diretta che ho voluto fare, per raccontarvi, per omaggiare il coraggio di un artista come Renato Zero, ciao a tutti, ciao Renato,